Il comune di Vallo della Lucania ha intenzionato alla costruzione e gestione di un parco rifugio per cani e gatti che dovrà sorgere nell'area di Mazzavacche, per cui ha approvato un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse e proposte mirate alla realizzazione della struttura, con tutte le caratteristiche previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare dalle linee guida pubblicate sul Burk Campania, numero 42 del 9 settembre 2002 e numero 46 del 7 luglio 2014. Il sindaco Aloia è merito al progetto. La nostra amministrazione intende verificare l'interesse di operatori economici, associazioni, privati e cittadini ad intervenire a loro cura e spese nella costruzione e gestione del nuovo parco rifugio per cani e gatti. Il progetto e il piano di gestione dovranno essere preventivamente approvati dall'amministrazione comunale. I proventi che saranno ricavati dall'esercizio della struttura saranno totalmente introitati dal soggetto privato che realizzerà l'opera per un numero adeguato di anni, da concordare con l'istituzionale comunale. Il consigliere delegato Piero Matonte aggiunge che in tale struttura saranno tra l'altro previste le seguenti attività. Pensione per cani, attività di pet therapy, attività veterinare, corsi di educazione per cani, servizi contro il randagismo, servizi di registrazione e degenza dei cani e dei gatti feriti, soccorsi dal servizio veterinario territorialmente competente, servizio di adozione. Abbiamo pensato ad uno spazio interattivo in cui scoprire di più sui nostri amici a quattro zampe, con una totale inversione di tendenza rispetto alla vecchia idea di canile e gattile. Dovrà essere uno spazio sufficiente ad ospitare un vasto pubblico di visitatori, che potranno trascorrere in relax ed in ambienti accoglienti i momenti della propria giornata in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. Uno spazio quindi che non rappresenti solo un ricovero, ma dove si possa testimoniare l'affetto per i cani e i gatti. L'ambizione è quella di costruire un luogo in cui si riconosce la particolare relazione che nei secoli si è istarata tra il cane e l'uomo, tra il gatto e l'uomo.